ciao a tutti bentornati sul canale questo video non è un video spesa ma una cosa simile perché oggi sono andata al lavoro e ho vinto ho vinto ho vinto sono stata premiata perché noi in cassa ogni tanto nel weekend abbiamo la vendita proattiva che sono dei prodotti che dobbiamo semplicemente proporre spiegando il tipo di prodotto al cliente sono prodotti marchio cop e niente questa volta è toccato a me di vincere questo sacchetto qua pieno di prodotti non ho ancora guardato ho sbirciato ma non ancora guardato tutti i prodotti lo voglio fare con voi allora un pacchetto di taragli pugliesi questi qua fior fiore della coppa 400 grammi olio extravergine di oliva e semi di finocchio perfetti soprattutto per mio marito poi un pacchettino di senza glutine 200 grammi sei confezioni salva freschezza di cracker della linea bene sì che sono le varie linee del marchio copp del marchio copp una zuppa triste di cereali e verdure 106 grammi che va benissimo quando si è fretta il cioccolato fondente extra questo qua sempre della solida 200 grammi che dico sempre della solita però non lo so perché è sempre della coppa linea solida 200 grammi poi 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 un allora e a parte la zuppa vabbè cracker i taralli e cioccolato l'ho già provato questo struccante occhi idratante delicato della linea vivi verde copp non l'avevo ancora provato sono 150 ml stella dove sei poi caffè 100 per cento arabica del marchio copp allora che questo andrà mio marito perché il caffè non lo posso più bere sono 250 gr stella voleva partecipare secondo me perché è interessata al sacchetto una volta vuoto poi tè verde e foglie di menta copp fior fiore di copp un altro prodotto sono con queste bustine qua forma di piramide sono 30 grammi 15 filtri piramidali per due grammi l'uno benissimo combuste salva roma poi barrette di cereali marchio copp senza olio di palma croccanti al cacao 160 grammi sono 8 barrette 20 grammi luna che lusso copp filetti di sgombra naturale anche questo 90 125 grammi sgocciolato 90 grammi va benissimo fior fiore che è il marchio d'eccellenza della coppia è tonno trancio intera pinne gialla all'olio di oliva pescato a canna va bene poi ancora della fior fiore sugo alla norma 190 grammi da consumarsi vedi alla fine del barattolo qua il meglio della cultura gastronomica perché la linea d'eccellenza della coppia il marchio fior fiore cosa contiene vediamo alla norma la norma è quello con la melanzana quindi pomodoro melanzane olio semi di girasola olio extravergine di oliva zucchero cipolla basilico sale e aglio perfetto anche questo e poi ancora c'è ancora una cosa il risotto i funghi porcini e zafferano 15 minuti in pentola due porzioni si può cuocere anche in microonde 170 grammi due porzioni perfetto senza tutto ammattato aggiunto senza conservanti e senza olio di palla descrizione e in più la borsetta e anche la borsetta sono veramente veramente contenta ringrazio i miei clienti per aver acquistato il prodotto che mi ha permesso poi di vincere questo diciamo praticamente noi dobbiamo spiegare ai clienti quelle varie linee del marchio coppa vende tanto gli viene fatto viene omaggiato per l'impegno messo e io sono stata omaggiata e sono veramente contenta tipo una bambina quando riceve un regalo inaspettato perché veramente non me lo me l'aspettavo proprio quindi sono veramente contenta niente ho voluto condividere con voi il mio regalo che ho ricevuto il regalo che ho ricevuto spero che come a me i prodotti vi siano piaciuti a me sono piaciuti tantissimo quindi vi ringrazio scusate stavo guardando vedevo dei movimenti fuori vi ringrazio vi saluto buona giornata a tutti ciao